Aziende in fuga da Vigevano. L'ultima è stata la Isem, che ha ufficializzato il trasferimento a Trecate qualche giorno fa. Nei mesi precedenti era toccato la Fiscatec con la chiusura dello stabilimento di via Roboni e il trasferimento di dipendenti e macchinari a Cormons. Prima ancora la Moreschi, con la dismissione delle ultime lavorazioni rimaste nella fabbrica di via Cararola. Se la vicenda Moreschi fa storia a sé, visti anche i recenti sviluppi con la messa in liquidazione giudiziale della società, colpiscono i trasferimenti delle altre due storiche aziende cittadine. La Fiscatec tra Vigevano e Cormons, dove aveva già uno stabilimento, ha scelto di mantenere Cormons. La Isem, avendo necessità di allargarsi, ha deciso di spostarsi appena di una manciata di chilometri, finendo sulla strada tra Magenta e Trecate. Su quella stessa strada ha costruito un maxistabilimento la Vetropac, che secondo indiscrezioni, prima di andare a Bofalora aveva sondato anche l'ipotesi Vigevano. E andando verso Novara si trova anche la nuova maxilogistica del lusso, dove, ironia della sorte, si trovano marchi per cui producono alcune aziende d'eccellenza vigevanesi. Sempre a Novara è stata annunciata la nascita di un podo per produrre semiconduttori e microchip, con un investimento da oltre 3 miliardi da parte di un colosso del settore. Mentre Vigevanese si impoverisce, insomma, sembra che accanto si stia formando una miniera d'oro. Come è possibile un tale contrapasso nel giro di così pochi chilometri? Difficile dare una risposta. Sicuramente, come fa notare il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, è un problema di infrastrutture, ma non solo. Anche le leggi urbanistiche regionali, a suo parere, fanno la loro parte e in Piemonte sarebbe più facile costruire dei maxipoli logistico-industriali. Contano altri fattori, in questo caso, per esempio, era proprio un operatore che costruisce per conto di ISEM, non solo la nuova ISEM, ma una struttura logistica molto più grande. Anche qui il tema della logistica è chiaro che la regione ha messo un po' un freno, altre regioni invece sono un pochino più, come dire, permissive da questo punto di vista. Quella è un'area dove si possono fare logistica ed è molto vicino ad un nodo autostradale e sicuramente questi due fattori assieme hanno fatto protendere per quei territori. Vigevano ora punterà forte sulla superstrada per Malpensa, il cui appanto è stato assegnato nei giorni scorsi. Vi devo dire che ci sono, per esempio, diversi interessamenti ci sono stati in questi ultimi anni e mezzo, periodo in cui è diventata più chiara la realizzazione dell'infrastruttura, vuol dire che noi potremmo avere certamente sorprese positive anche a brevissimo.